Si apre la settimana del Calcit, ha infatti preso avvio mercoledì 6 settembre all'Arezzo Fiere Congressi Calcit in Scena, la lunga maratona organizzata dal Comitato Aretino per raccogliere fondi da destinare al servizio scudo per le cure domiciliari oncologiche. Durante la settimana numerose iniziative, cene e spettacoli per intrattenere presenti sullo sfondo ovviamente della beneficenza. La manifestazione avrà come momento clou il 17esimo mercatino dei ragazzi in programma per domenica tutta la giornata. Sabato 9 settembre alle 21.15 invece sarà la compagnia tetrale del Polvarone a tornare ad esibirsi per il Calcit con lo spettacolo Sto Matrimonio non sa da fare. Presenta la manifestazione anche l'Unione Italiana Foto Amatori con la mostra fotografica collettiva dei soci. Altra particolare esposizione all'interno dell'Arezzo Fiere Congressi è quella delle macchine da cucire d'epoca.